Start, two, one, install mission and lift off! L'inizio della programmazione di questo titolo è avvenuta esattamente un anno fa, ad aprile 2022, il gioco è pronto ed è il seguito di Sherlock Holmes Chapter One, quello che ho portato comunque nel 2021, ha alcune cose in meno, nel senso su tutti l'open world non c'è, c'è la classica impostazione come tutti i giochi di Sherlock Holmes, quindi l'ambientazione inerente alla missione, la possibilità poi di viaggiare tra le varie location all'interno dello stesso capitolo, ma non c'è più diciamo la città, l'isola come avevamo visto che alla fine non è stato un granché come feature. Che cos'è Sherlock Holmes Day Weekend? Allora, noi inizieremo adesso la partita che ho già un pochino iniziato, ve ne parlo un pochino, non introduce niente di realmente nuovo, quindi se vi piacevano da matti i giochi di Sherlock Holmes vi piacerà anche questo. Se è il primo che vedete, sappiate che se per caso le meccaniche vi piacciono, ci sono altri titoli. Appunto, ci sono due titoli precedenti al Chapter One, che è quello di due anni fa, e quindi da fare ce n'è. Crime and Punishment su tutti e The Daughter Evil, una roba del genere, insomma l'altro ancora, con i vari casi che potrete andare a risolvere in compagnia del fidato dottor Watson. Andiamo a provarlo, il gioco dura, diciamo, possiamo ipotizzare una decina di ore ed è per questo che non andremo in profondità. Quindi, rispetto agli altri titoli, ci saranno mondi onirici, ci sarà lo spavento o comunque il terrore del protagonista, e gli eventi appunto sovrannaturali, un po' lovecraftiani, come vogliamo intendere anche dallo screen che ci è comparso ora. Ora, questa è l'ambientazione principale del primo capitolo di Baker Street. Baker Street è la via dove ha l'appartamento Sherlock Holmes e abbiamo tutte le, diciamo, allora, inizio a presentarvi il diario con tutti gli indizi che abbiamo trovato. Abbiamo trovato un giornale, allora, in pratica all'inizio è abbastanza semplice, nel senso che noi abbiamo trovato un giornale mancante, tra quelli che ci portano normalmente la mattina, e all'interno di questo giornale che non c'era, insomma, l'abbiamo trovato buttato in un cestino avvolto nella terra con una spina. E subito la mente di Sherlock Holmes lo ha portato al fatto che qualcuno magari lo volesse morto. In pratica l'abbiamo trovato qui, e il bambino ci ha detto, guarda, te l'ho portato il liberaio, stamattina aveva una pila di libri, era un po' nervoso. E poi, vabbè, abbiamo fatto il nostro profilo della persona osservandola, quindi se conoscete già i precedenti giochi di Sherlock sapete che dovete esaminare una persona e poi trarne un vostro profilo in base alla vostra intuizione. La cosa che devo dirvi è che se non è il classico gioco che voi prendete e dove deducete voi, deduce lui, l'eroe è lui, e spesso le intuizioni non vi verranno mai in mente. Voi vivete l'avventura sua. Se volete qualcosa dove siete voi in prima persona a dedurre, dovete giocare a Pains Creek Killings, lo dirò fino alla fine. Allora, andiamo, torniamo a vedere gli indizi. Noi abbiamo, vabbè, questo è il giornale che alla fine siamo riusciti a recuperare, abbiamo trovato l'esplosione, c'è stata un'esplosione e un'esplosione, diciamo, c'è nei racconti del bambino che vende i giornali, perché a un certo punto ho sentito un'esplosione e va bene. Abbiamo trovato il profilo di Barnes, che è il tizio che vive, che lavora qui dentro all'interno di questa libreria e praticamente la prima ipotesi era quella che lui avesse messo questi fiori secchi come segno di missione compiuta per qualche corporazione. Questa era la nostra prima intuizione. Il profilo poi che noi abbiamo tratto, a borsa sotto gli occhi, dormire, stress, è zoppo, qualcuno lo ha aggredito. Potevamo fare l'esatto opposto ad inizio gioco, quindi ipotizzare che si fosse veramente fatto male. E in effetti credo di averla sbagliata perché all'interno ho trovato una scala rotta, quindi probabilmente indossa delle scarpe alte per sembrare più alto e potrebbe essere minacciato da qualcuno. In realtà la conclusione che ne abbiamo tratto è un'altra. Questa signora davanti qui invece, che è vedova, praticamente abbiamo scoperto che ha trovato tra i suoi fiori un cactus col vaso rotto ed è alla fine abbiamo scoperto un regalo di Barnes che è innamorato segretamente di lei. E quindi la spina trovata nel giornale tecnicamente ci è finita per caso perché lui stava trasportando questo vaso insieme ai nostri giornali per la signora qui. Insomma questo è quanto abbiamo visto. Abbiamo un altro giornale, abbiamo la mappa con tutte le location, abbiamo anche la casa di Stanwyck che non ho ancora guardato. E qua abbiamo i vari outfit. Il gioco all'inizio ci dice di vestirci per la pioggia, insomma, ma non credo cambi molto. Questo invece è il palazzo mentale. Il palazzo mentale ci permette di fare le connessioni tra le varie sinapsi, insomma, con le varie prove che abbiamo trovato. Quando faremo combaciare le prove giuste si arriverà alla conclusione. Questo è quanto, ma in realtà, come anche negli altri giochi dei Sherlock, se voi non state perfettamente attenti vi basterà cliccare a caso sui vari indizi fino a trovare la combinazione giusta. E spesso se non prestate attenzione vi confonderete perché direte ma perché questa conclusione mi è sfuggito qualcosa e scoprirete che non avete letto un documento. Quindi la storia è sempre stata interessante negli Sherlock con colpi di scena però sappiate che i colpi di scena avvengono, le scoperte avvengono con gli indizi che però difficilmente noterete voi ma voi state vivendo alla fine la storia di Sherlock. Questa è una location che non ho ancora visto. A lui è scompasso un servo e lui non vuole investigare. Perché non è lui a decidere. E in realtà Sherlock, questo non ve l'ho detto prima, lui leggeva i giornali perché voleva scoprire appunto se ci fossero stati altri rapimenti, altri furti a Londra. Giustamente Watson gli ha detto ma avvengono in una grande città dei furti perché devi preoccuparti sempre, insomma. Chiediamoli. Sappiate che le location spazieranno tra l'America, la Louisiana e un manicomio in Svizzera quindi non sarà tutto qui e avrà dei toni rispetto agli altri Sherlock molto più cupi, appunto Lovecraftiani. Ok, non investigano su un servo che si allontana dal padrone. Se dovessimo trovare Kimia, mentre infrange la legge, ci assicureremo di informare. Deve andare. Ok, ci pensiamo noi, insomma. Avrò bisogno di una sua testimonianza scritta, poi potremmo presentare un reclamo. E' un Sherlock giovane. Allora, glielo facciamo descrivere. Straniero, un Maori, dalla Nuova Zelanda, l'uomo più grande che lei potrà mai vedere. Forte come due uomini insieme, capelli scuri e alcuni tatuaggi spaventosi. Non parla una parola d'inglese e non si è mai preoccupato di imparare, ma vi basta indicare qualcosa e lui capisce. Ma ho vestito un sacco di soldi su di lui, quindi deve essere trovato. Quando è scomparso? Mi porto i giornali al mattino, ma ieri ho dovuto prenderli io stesso, deve essere scappato, l'altro ieri sera. E qua adesso parli di scappato? Dove vive? Andremo a vedere la casa sua. In giardino, non può sbagliarsi. Ok, mi piace molto questa ambientazione, mi è sempre piaciuta. Ma anche nei romanzi di queste case. Ma c'era in realtà anche in Painscreek Killings il baracchino del giardiniere. Perché sarebbe scappato? Sì, aveva vestiti nuovi, lavoro retribuito, tutto... Ha rubato qualcosa? No, non ha rubato niente. Ok, lui teneva le sue paghe. Era già scappato? Lui mi ha salvato la città. Penso che fosse a causa del rumore. Non ha mai lasciato questa proprietà. Se dovesse causare qualche danno, non avevo la responsabilità. Perché sono stato io a salvarlo dallo stato salvato in cui viveva e portarlo in Inghilterra. Ok. Diamo un'occhiata intorno alla villa. Non lo esaminiamo lui? No, non ce lo fa esaminare. Cosa che invece avrei fatto io. Insomma, per vedere se magari lui non è... Vabbè che è stato lui a chiamare la polizia, però... Andiamo a dare un'occhiata. Le amministrazioni, vedete, sono circoscritte a la villa, la via Baker Street e poi la via della libreria. Insomma, non c'è altro. Quando troveremo qualcosa di utile, vedete, c'è il puntino, ma possiamo decidere anche di giocare ad una difficoltà più difficile, quindi non faccelo indicare. Vedete che qua abbiamo notato qualcosa e c'è qualcosa di esoterico qua. Iniziamo a sentire qualcosa. Diamo un'occhiata a questo prima. Tabacco da masticare. Vedete, un indizio su 3. E vedete che tutto è anche piuttosto guidato perché... Ci sono altri due indizi. Un'impronta... Di 43 con una sola consumata. Questi sono stivali da operaio. Ok, non ci fa esaminare questo e non ho idea del motivo. Però dovremmo trovare dell'altro, immagino. È caduta una testa. Ci sono degli attrezzi. Vedete che poi cambia in base a dov'è l'indizio. Però qua non c'è altro. Vediamo se lo troviamo in tempi pericoli. Perché tante volte mi blocco su ste cose. Vedete, questo non me lo fa esaminare e non so il perché. Poi tante volte, ecco, questo è un po' un peccato. Dovete girare un po' a caso cercando di vedere degli indizi che vede solo lui alla fine. Poi ovviamente abbiamo anche la libertà di uscire e tornarci dopo. Facendo così usciamo e andiamo e torniamo dopo. Però vedete che il simbolino rimane e dobbiamo continuare a cercare. Là c'è la baracchina, ma a me piacerebbe vedere, vabbè, tutti gli indizi. Ma possiamo parlare sempre con Watson e ci dice Però qua io onestamente non trovo nulla. Si potrebbe muovere un po' così a caso cercando di capire dov'è l'ultimo indizio. Ma ci tornerò dopo probabilmente. Adesso non voglio farvi perdere tempo. Me lo guarderò con calma dopo. Intanto andiamo là. Andiamo al baracchino dove lui vive. La villa è grande. Concentrazione ti aiuta a trovare dettagli sparsi. Vedete, la concentrazione è una cosa che è disabilitata con la difficoltà un peggio più alta di questa. Praticamente, per osservare l'aggetto non dimenticate di selezionare la prova giusta, alcuni indizi non saranno visibili. Ok, infatti, dobbiamo con L selezionare la prova giusta. No, dobbiamo praticamente. Questo c'era anche nel vecchio gioco. No, non qua. Ma la prova giusta. Vedete che impronte la selezione. Seleziono indizi con X. E io facendo Q posso andare a vedere se c'è qualcosa altro in giro. Ci sono impronte di scarpa? Ok, provengono a stivali di un operaio. Qua c'è qualcosa però. Solchi paralleli. Ruote. E questa è un'altra prova aggiunta. Qua c'è qualcosa però. Vedete che c'è qualcuno che vuole entrare qui. E c'è un lucchetto. Sono tutti indizi che poi andremo a riesaminare e cercare di mettere insieme. Intanto entriamo in casa e vediamo cosa c'è. Qua c'è qualcosa. Ci sono due indizi da trovare. E c'è questo. Uno straccio di juta. E poi? E poi delle scatole rotte. Servito un colpo molto forte per romperle. Quindi qualcuno ha rotto delle scatole. C'è un straccio di juta lì. Non lo so. Poi con questo livello di difficoltà che è quello base. Che dall'inizio del gioco è tutto segnato. I luoghi di interazione sono tutti segnati. Qua abbiamo trovato qualcosa che sembra un ocraino. Insomma un qualcosa che si può suonare. Flauto nasale maori. Si chiamano un gurs. Ok. E qua c'è un bracere. Però c'è qualcosa da vedere. C'è una pallina. Ticarei ruotandola. Ci dà l'indizio. Ok. Un sasso. Forte direzione è una sostanza chimica. Mi presti il suo naso dottore. Non dimenticarei mai quell'odore. Ho sentito. Spesso quando ero in Afghanistan è un opioide. Signor Holmes. Un narcotico. Ok. Tenete conto che poi nel gioco come succedeva anche negli altri. Si investigherà sia a livello chimico che a livello di ricerca di testi. In biblioteca. Insomma. Quindi non è solo così. C'è un osso. E bisogna capire. Perciò il mantone resti di un pasto. Ok. Resta solo un indizio. Che è qua. Cenere. Ceneri fredde. Quindi è andato via da un po'. Possiamo usare l'immaginazione. Premere Q per passare all'immaginazione. Ok. E queste sono cose sempre abbastanza difficili per me. Perché si possono anche saltare tra l'altro. Ma perché dovremmo? Però onestamente si può passare precedente e successivo. Ok. Lui stava facendo sta roba qui. E successivo. C'è solo i punti di scape. Ok. Quindi andando qui. Lui stava facendo quella roba lì. No. Voglio uscire dall'immaginazione perché non riesco a capire. Cioè praticamente. Ed è questo il problema che ho sempre avuto con i Sherlock Holmes. Che comunque le intuizioni sono sue. Mi dice vestiti di aiuta. Si parla di quanto si ha avaro il tizio. Quindi. Interagisce con il creare il giusto degli eventi. Ok. Allora. Spirito acquatico maorio. Che altro. Ok. Vabbè. Questo è un... L'aria non passa. Bisogna andare a vedere fuori. Quindi. Allora. Poi probabilmente ci saranno altre cose da mettere. Vedete qua. Eh sì. Ok. Ok. Questo è molto interessante. Qualcuno ha tappato il camino. Mmm. Ok. Questo mi puzza tantissimo. Siamo andati in modalità... No. Allora. Vediamo se nel palazzo mentale possiamo fare qualche ipotesi. Qua. Allora. Abiti in iuta. Si può shiftare. Vedete. Tra oggetti, osservazioni, abiti in iuta. E poi... Perfilo del personaggio touch. Nel giardino capitano a steve. Che panno nel camino. No. La baracca. E la cap... E la... E la... No. Vediamo se possiamo collegare la testemunanza. Vedete che tante volte non si capisce cosa si può collegare. Io vado a caso. Vedete che posso collegare uno di questi. Però... In questo caso non mi ha portato da nessuna parte e mi ha eliminato gli indizi. Cioè bisognerebbe... Tante volte ci si riesce. Ma altre volte bisogna proprio essere dei matti come... Come Sherlock Holmes. Per... Per intuire gli indizi. Però... Ho da pensare. Ce n'è. Cioè se il gioco vi prende... Perché no? Allora. L'aria non passa. Ma secondo me il problema... Il problema non è qua dentro. Il problema non è qua dentro. È probabilmente fuori. Perché c'è qualcosa che è successo qui. Se noi tornassimo indietro... L'aria non passa. No. Non abbiamo... Non abbiamo ancora abbastanza indizi per capire che cosa è successo. Ma vediamo se nella villa si può entrare. Ma non credo. Manca ancora l'indizio qui. E onestamente vorrei capire. Impronta di ginocchio. Stesse aspettando da un po'. Ok. Quindi abbiamo scoperto che... Abbiamo abbastanza indizi. Quindi tecnicamente possiamo ricreare qualcosa. Ok. Sì. Infatti adesso abbiamo il secondo. Ok. Quindi. Precedente o successivo? C'è qualcosa anche qua però. Ma infatti qua possiamo tornare indietro. E c'era qualcuno che faceva qualcosa qua. Ok. Qua abbiamo ricostruito questo. Però non è abbastanza. Adesso voglio tornare... Praticamente precedente è questo. Successivo. Qua non me lo fa. Possiamo tornare davanti e vediamo se possiamo fare due domande al tizio. E bisogna dedicarci se parecchio. Fornisco la prova. La porta. Gli chiedo della porta. Ok. Il mazzo ha un'interessante lock. Sì. Ho un'interessante lock. Su ogni porta della mia mansione. E' lo rende più difficile da prendere. Bevate un mazzo di chiave entrambi. Ne ho bisogno di prenderli. No. Ne ho bisogno di fare quello che ti ho detto. E' esaminare il mazzo. Non beveva, non fumava. Quindi ha trovato del tabacco da masticare. Adesso voglio chiedergli dei vestiti. Se trovo dove sono. Questo. Ok, gli dava dei vestiti di juta. Panno nel camino. Ok, poi vedete che ci spunta tutto quello che non serve. Sì, poi noi stiamo cliccando a caso. su cose che non c'entrano assolutamente nulla di altre persone che abbiamo conosciuto prima. Quindi, però, le portate a esclusione. Ma non serve a niente. Ok. Basta. E così è la meccanica base, insomma, in cui poi si andranno a formulare delle ipotesi. Adesso vi faccio vedere, andando sempre abbastanza a caso, ma possiamo dare abiti in iuta, residui di tabacco e poi vediamo se abbiamo altro che possiamo collegare in pronte del giardino. Vediamo se c'è qualche collegamento. No, vedete che ce li ha eliminate. quindi sono due blu ma non c'è modo di collegare. Non abbiamo ancora prove sufficienti per dare una conclusione. Vedete che ci mancano quelle blu. Due blu, ce ne servirebbero. quindi non abbiamo ancora abbastanza. Perché poi ci sono, appunto in questi nessi qui, la possibilità di poi tirare due conclusioni e scegliere noi quale conclusione delle due, due ipotesi. messo tutto insieme ci fanno fare altre conclusioni che poi si collegano allo schema generale della missione. non ci vuole dare le chiavi. Non sappiamo chi ha fatto cosa ma forse qua c'è ancora qualcosa. C'è un indizio che non avevamo notato. Sacco di grano. C'è la faccia di qualcuno lì. Ok, molto interessante questa cosa. C'è un secondo indizio da qualche parte. Ma chissà dove devo tirare questa modalità qui magari. No? Ho sempre qualche problema io a trovare gli indizi. vediamo. Ma non trovo nulla. No. Non forse... Eccolo qua. esaminando vediamo. Piccolo cannocchiale al marinaio. Ok. Due indizi abbiamo. Ok. Quindi qualcuno ha sbattuto la faccia qui e abbiamo già un altro un'altra ipotesi che qualcuno abbia fatto sbattere la faccia qui a qualcuno. voglio uscire da questa modalità perché voglio vedere così se mi dà qualche precedente. Ok. Stiamo ipotizzando che qualcuno è caduto. Torniamo indietro. Ancora più indietro. Ok. Si va avanti. Vabbè. Qua stiamo facendo sempre la stessa cosa. Qui invece Ok. Lui sta affermando quella roba lì. E probabilmente viene estordito da qualcosa. Qui c'è dell'altro e di là c'è ancora dell'altro ancora. solo che parla lì è vuote quindi è stato portato con un carretto probabilmente. Quindi qui c'è qualcuno qualcosa che lo teneva d'occhio io ipotizzo. Che masticava tabacco. Attenzione c'è qualcosa qui con un binoco con un con un cannocchiale. Ok. Ok. Tutto potrebbe tornare adesso. Successivo l'osserva col cannocchiale mastica il tabacco c'è anche del sangue forse. Vabbè qua abbiamo visto tutto quindi vediamo se si è sbloccato qualcosa nella qua cannocchiale residui di tabacco non è non è una conclusione plausibile quella probabilmente però voglio andare a chiedergli di chi era quel cannocchiale perché è importante ovviamente non abbiamo ancora visto nulla di lovecraft e hanno ovviamente perché quello se lo stile di gioco vi piace lo andrete a provare il gioco costa 39,99 su steam tornisci la prova vediamo se cannocchiale ok non è suo quindi c'è sotto qualcosa qualcuno ok non è lui allora le impronte non sono le sue se non indossa scarpe quindi diamo un'ultima occhiata per vedere se c'è qualche modo di cannocchiale residui di tabacco da masticare e panno nel camino e ad esempio a me questa conclusione qui poteva farmi arrivare alla conclusione che magari c'era qualcuno che vuole se va fuori invece no devo tornare nuovamente lì vedere ma non non mi lascia più fare intuizioni quindi dovremmo andare a cercare di scoprire altre informazioni può andare in questa modalità qui e vedere se troviamo qualche qualche indizio anche qui ma dubito poi ovviamente ci saranno ambientazioni diverse come vi ho detto in vari stati in varie location completamente diverse tanti personaggi mi ricordo questo è la remake del gioco del 2008 il 2008 aveva la terza persona anche la prima però è un gioco completamente diverso voglio dare un'occhiata anche a questo qui vediamo se c'è qualche precedente vediamo se me lo fa successivo successivo c'è qualcosa qui ok si facessi l vabbè io so che qui c'è qualcuno che ha messo uno straccio quello che so è questo un tizio che lo osservava gli ha messo lo straccio lo ha fatto probabilmente stordire con il fumo e poi lo ha steso qua questa è la conclusione su cui sto lavorando però insomma questo è il letto non che vivessi in grandi condizioni mi puzza anche il proprietario lì ma in realtà non penso a un complice penso più a qualcosa di di strano in villa non si può entrare ragazzi il video va per le lunghe se no fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo Sherlock Holmes ormai se il gioco vi piace o li avete visti viene sempre ispirato ne avete un sacco da giocare quindi di vari tipi fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.